Se si parla di pianti produttivi, resilienza è la capacità di un'impresa di garantire la continuità delle attività anche dopo il verificarsi di un evento calamitoso. Di cultura della prevenzione si è parlato nell'auditorium Dompea all'Aquila nel corso di un convegno sulle imprese e i territori resilienti in partnership tra Confindustria e Protezione Civile. Il presidente della regione Marsilio ha sottolineato a tal proposito che la regione intende collaborare mettendo in campo la propria rete di monitoraggio dei rischi su scala regionale. Lo sviluppo di programmi scolastici e accademici finalizzati alla conoscenza dei rischi naturali presenti nelle nostre aree si accompagnerà all'istituzione di un ufficio apposito per la comunicazione su tematiche scientifiche di emergenza e alla caratterizzazione attraverso indagini geofisiche della vulnerabilità degli edifici ad elevato rischio a partire da quelli sensibili e strategici. Ha partecipato tra gli altri anche il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. Sulla prevenzione stiamo lavorando. Prima di tutto va messo in sicurezza il territorio. C'è questo piano del Proteggio Italia varato a febbraio dal presidente del Consiglio dei Ministri. Una grossa fetta di questo piano hanno riguardato interventi emergenziali di protezione civile, un investimento di 3 miliardi di euro nell'arco di un triennio. La prima cosa è la prevenzione strutturale. Poi l'attività di prevenzione non strutturale, quella è tutta nostra, dalla piattaforma nazionale di allertamento della popolazione. Voi sapete che nel decreto sblocca cantieri viene una norma per consentire a tutti quanti noi di ricevere il messaggio di allertamento sui nostri telefonini, alla diffusione della conoscienza attraverso la realizzazione di una campagna informativa e di una settimana della protezione civile.